Dicembre e gennaio sono i mesi più freddi dell'anno e spesso con l'abbassarsi delle temperature aumenta l'incidenza dell'influenza tra i malanni di stagione ed in effetti da quando è partita l'osservazione dei dati secondo InfluNet sono più di un milione e mezzo gli italiani colpiti dall'influenza con un picco nell'ultima settimana di dicembre 2018 di oltre 256 mila nuovi casi con un'incidenza di 4,5 ammalati su mille pazienti che schizza a 11,2 in caso di bambini al di sotto dei 5 anni una delle categorie maggiormente colpite provincia di Trento Marche Abruzzo Sicilia e Campania per ora le zone più colpite dal virus come storicamente avviene anche nella nostra provincia il picco influenzale è atteso per la fine di gennaio e fino ad allora la situazione ha rispecchiato un andamento meno aggressivo rispetto allo scorso anno forse una maggiore attenzione verso i vaccini con maggior richiesta di dosi da parte dei medici di medicina generale andati tutti esauriti in breve tempo forse una delle possibili ragioni di questa condizione dottore allora qual è l'andamento influenzale in questa zona a noi sta decisamente andando abbastanza bene anche rispetto agli altri anni l'anno scorso di questi tempi il picco influenzale era molto più alto quest'anno ancora diciamo che i pazienti che si rivolgono a noi per a causa dell'epidemia influenzale sono abbastanza poco numerosi si prevede almeno speriamo che l'epidemia di quest'anno sia abbastanza benigna per cui è chiaro che le previsioni non sono non le posso dare al 100% però nella mia esperienza ormai più che trentennale posso sicuramente affermare che quando l'epidemia parte piano di solito rallenta ecco quali sono i consigli che si possono dare per chi andrà incontro ai sintomi classici che conosciamo ecco hai detto bene cioè dobbiamo sicuramente guardare i sintomi e quindi se c'è febbre alta prendere un antipiretico e stare chiaramente a riposo riposo preferibilmente a letto purtroppo adesso le attività lavorative frenetiche qualche volta non permettono ai nostri pazienti di rimanere a casa molti vanno a lavorare anche anche con l'influenza e quindi questo può provocare delle complicanze che sono anche serie soprattutto negli ultra 65 anni e nei pazienti cosiddetti a rischio cioè diabetici, ipertesi, cardiopatici, pazienti con delle bronchite croniche recidivanti. Ecco il ricorso all'antibiotico solo dietro presfizione del medico e dietro una visita opportuna? Sì certo alcuni pazienti chiaramente ormai siamo abituati si automedicano quindi al primo insorgere la prima febbricola prendono subito gli antibiotici di loro spontaneità questo è un errore e chiaramente chi decide se prendere o meno l'antibiotico deve essere il medico di medicina generale.